Signor Presidente, signor Commissario, non dobbiamo più dimostrare nulla in merito alla crisi del debito pubblico, si sa come procedere e in effetti sembrano proprio degli incendiari. La relazione della Commissione è rimasta lettera morta e le istanze europee devono agire a tutte a fretta, prevedendo che cosa sono per loro natura. Le proposte che vengono presentate vanno dalla legge del mercato, il conflitto di interesse, la regolamentazione di tipo sovietico che ha la Commissione europea. In effetti passiamo da Scilla Cariddi. Il Presidente Barroso ha detto che tutto questo deve essere sottoposto all'autorità della Commissione. Tutto questo è veramente stupefacente, soprattutto dopo le parole di Trichet, vale a dire opacità e segreto. Ovviamente ci si attacca agli effetti e non già alle radici del problema. Chi deve pagare le agenzie? Devono essere pubbliche oppure no, indipendenti o meno? Tutto questo non disciplina nulla. Se non si pone fine alla possibilità che si venda senza detenere, di vendere senza avere qualche cosa, allora a questo punto ci sarà un capitalismo devastatore per il popolo e per l'economia. Dunque, innanzitutto bisogna vietare qualsiasi creazione di moneta. Senza controparte reale ed effettiva bisogna porre fine alla speculazione dei mercati in modo frenetico, allora le agenzie di rating non avranno più una ragione d'essere. Grazie. Grazie.